Il primo gol tra i professionisti e comunque è stato un gol che ci ha permesso di acciuffare la partita. Abbiamo avuto anche le occasioni per vincere alla fine, però alla fine è un buon pareggio contro un'ottima squadra ed è stata comunque una bella partita penso. Allena ancora appena detto che il movimento di questo gol l'avete provato più volte in allenamento. Sì, perché comunque si è visto che la palla è nata da punta, difendi che ha legato di prima per le noci e ha messo il secondo pallo con un inserimento mio che comunque facendo la mezzala devo fare questi inserimenti che possono portare al gol.